buon salve people bentornati sul mio canale io sono sempre il vostro walker di fiducia eccoci oggi al video promesso ovvero le mie opinioni in merito allo showcase le previsioni in merito allo showcase che si terrà il giorno 9 giugno lo seguiremo in live su twitch youtube tutte cose va benissimo però conviene fare un attimo il punto della situazione perché mi sembra che la gente stia sbarellando di brutto stia pensando che arrivino delle cose fuori di testa quindi un po lo faccio per fare un attimo il punto della situazione ma anche per instillare in voi il seme del dubbio perché una volta visto il video all'avvine sarebbe bello che mi esprimiate le vostre previsioni in merito allo showcase oltre ai titoli che tecnicamente dovrebbero esserci quelli che sperate i vostri desideri in modo poi settimana prossima di fare un video dedicato con tutto il feedback che ho ricevuto dalla mia community qui su youtube anche su twitch e sui vari social per fare un attimo il punto della situazione vedere quali sono quelli più papabili quelli meno papabili fare anche un po di fact checking e andare a snocciolare un po di contenuti extra prima di passare al cuore del video come sempre iscrizione campanellina un like per supportarmi fate tutte cose detto questo non indusiamo oltre let's go partiamo dunque con i titoli i first party quelli più attesi e quelli che ci aspettiamo e allora sappiamo che all'interno dell'arco del 2024 dovranno uscire alcuni titoli che sono stati promessi al developer direct e che sappiamo anche usciranno nel 2024 per loro natura tipo microsoft flight simulator 2024 sappiamo che nel periodo autunnale dovranno arrivare due titoli ara history untold su pc quindi su console arriverà più avanti auspicabilmente e avowed il titolo di obsidian che stiamo attendendo basato sulla lore di pillars of eternity oltre a questi tre l'altro annunciato al developer direct ovvero indiana johnson antico cerchio titolo di machine games che dovrebbe arrivare in un non meglio precisato 2024 perché al developer direct non ci fu la finestra di lancio autunno quindi boh tecnicamente potrebbe arrivare anche domani però dubito fortemente e poi altri due titoli age of mythology retold che è stato annunciato all'interno di uno showcase di un piccolo show di age of empires che dovrebbe arrivare durante l'arco del 2024 anche questo senza data e soprattutto black ops 6 quindi l'ultima esperienza targata call of duty che è stata svelata ecco è stato tolto diciamo questo ampio velo di mistero chissà che cosa sarà e avrà il suo direct personale proprio durante lo showcase c'è stato un trailerino carino che ha parlato di alcune delle personalità che probabilmente saranno coinvolte all'interno della storia ma lo vedremo poi nel video domenicale dove analizzeremo qualcosina un po più di succulento questi titoli per me dovranno esserci un altro titolo che dovrebbe arrivare nel 2024 del quale si è perso un po traccia perché ci sono le beta in corso io faccio parte del test per le closet beta quindi non posso dirvi niente è towerborn il titolo di stoic studios che tramite xbox studio publishing dovrebbe arrivare all'interno di quest'anno così era stato detto ai tempi che furono non chiedetemi informazioni non posso dirvi niente comunque altri titoli first party che potrebbero arrivare quest'anno anzi dovrebbero arrivare quest'anno stando a quanto dichiarato dalla stessa microsoft in vari eventi sono il dlc di diablo 4 vessel of hatred che dovrebbe arrivare nel late 2024 probabilmente nella parte finale dell'anno questa cosa me la aspetto all'interno dell'xbox game showcase di giugno perché il blizzcon non si terrà quindi non ci sarà l'evento classico targato blizzard verso il periodo autunnale mi aspetto che vessel of hatred faccia la sua comparsa nello showcase così come war within cioè è l'espansione della versione retail di world of warcraft anche essa dovrebbe essere annunciata di solito al blizzcon blizzcon non c'è quindi dovrebbe essere qui cominciamo a accumulare un po di roba è dentro altro dlc un'espansione che dovrebbe arrivare all'interno del 2024 è shuttered space quindi l'espansione di starfield all'interno della quale dovrebbero esserci nuovi contenuti dei quali non sappiamo nulla si parlava dei varun all'interno di qualche contenuto rilasciato dato da ward e soci non ci sono ulteriori dettagli potrebbe arrivare in concomitanza con le famigerate mod su console per starfield potrebbe non lo so staremo a vedere in più già il boost dato dai 60 frame per secondo su series x ha riattirato l'attenzione su starfield potrebbe arrivare qualcosa dedicato anche series s non lo so staremo a vedere comunque dovrebbe esserci roba anche in merito starfield personalmente mi aspetto questa cosa così come mi aspetto di vedere roba di stalker 2 perché parliamoci chiaro a settembre esce stalker 2 annunciato nella notte dei tempi casini con la guerra in ucraina eccetera eccetera tutto bene ok però adesso siamo ridosso dalla data della data di uscita non mi aspetto un ulteriore rinvio considerando che gli ultimi trailer che avevamo visto di gsc game world cioè la compagnia che ha fatto e che distribuisce anche stalker 2 erano recentissimi e non preannunciavano non lasciavano trasparire un ulteriore rinvio quindi allo showcase dovrebbe comparire visto che ha fatto sempre praticamente capolino lì dentro mi aspetto questo sempre parlando di first second party insomma di roba di casa nostra chiaramente mi aspetto l'infornata dei titoli di activision blizzard che non venne rilasciata ai tempi che furono perché non ebbero il tempo di preparare tutte cose il pacchettino dei titoli dedicati il pacchettino di benvenuto ecco come fu per bethesda mi aspetto che qualcosa si muova in tal senso anche per alleggerire un po l'attesa estiva delle release perché nei first party che abbiamo citato nel primissimo blocco cioè i titoli first party che dovrebbero arrivare comunque tassativamente nel 2024 stando alle dichiarazioni xbox abbiamo tipo sei titoli negli ultimi quattro mesi tutto il resto bisognerà pur metterlo da qualche parte per evitare di avere 18 titoli che si sovrappongono quale occasione migliore di una pausa estiva per apprezzare il catalogo di activision blizzard come intrattenimento in vista del piatto forte appunto nel periodo autunnale e invernale inoltre potrebbe essere una mossa intelligente non lo so se è fattibile io non sono un esperto di marketing io farei così ecco io fossi microsoft farei così quale modo migliore di attirare l'attenzione del pubblico su call of duty day one su game pass che dovrebbe essere un po il nuovo mantra per quanto riguarda i titoli di activision che mettere modern warfare 3 all'interno del game pass potrebbe essere interessante rilasciarlo adesso a giugno con il periodo estivo in modo che la gente lo gioca si abitua si iscrive si abbona al game pass e poi quando arriva call of duty black ops 6 quando arriverà qualsiasi sia la sua data di release tac la gente è già abbonata alle hop e microsoft boosterà pomperà il numero dei suoi abbonati che alla fine parliamoci sta tutto lì eh infine per chiudere il blocco di quello che mi aspetto ci sia ecco l'xbox mobile store del quale parlò sarah bond il mese scorso cioè la piattaforma mobile accessibile tramite browser che non avrà un'app dedicata stando a quanto sappiamo e che potrebbe fare capolino ecco all'interno dello showcase visto che lo store verrà lanciato a luglio quindi fra un mesetto un mesetto e qualcosina hai già lì tutti gli occhi puntati addosso annunci call of duty annunci un boato di altri titoli first party per una seconda metà dell'anno che si preannuncia bella pienotta in termini di release quale occasione migliore di farci filare dentro anche lo store mobile adesso veniamo alle speranze le mie speranze personali e quindi qua aspetto poi quello che mi direte voi ognuno ci avrà le sue ecco segniamo un punto zero ecco di questo video dove tutto quello che c'era prima ha un senso che possa essere presentato adesso andiamo un po a sentimento io personalmente mi aspetto un contenuto in merito a sea of thieves titolo super mega stra giocato sia su xbox ma adesso anche su playstation che appunto in virtù di questa cosa potrebbe attirare anche gli occhi della concorrenza dei giocatori che giocano su playstation per a seguo l'evento perché c'è cod o c'è anche la roba di sea of thieves a ma xbox c'è anche tutta sta roba perché non è cosa data per scontato da tutti ecco perché a volte quando parlo con la community non tutti seguono l'industria nel dettaglio quindi chiaro che questa cosa sia un po un cavallo di troia per portare nuove persone all'interno dell'ecosistema di xbox mi aspetto anche id software ovvero i creatori di doom che sono silenziosi già dal 2020 praticamente da quando venne rilasciato doom eternal l'abbiamo già detto diverse volte mi aspetto che qualcosa di software faccia capolino così come speranza the coalition che anche loro latitano da un bel po ancora da più tempo tecnicamente il team dietro gears che dovrebbe essere al lavoro sul seguito di gears e su roba nuova credo mi aspetto qualcosa anche di zenimax media online personalmente sappiamo che siano al lavoro su diversi prodotti uno dei quali dovrebbe essere un mmo con un nuovo engine tutte cose che non è basato su the elder scrolls a quanto sappiamo quindi potrebbe essere una comparsata interessante attualmente il team è in sviluppo su gold road quindi l'espansione di the elder scrolls online che uscirà a inizio giugno su pc e a metà giugno su console qualcosina da parte loro potrebbe essere interessante vederlo così come state of decay 3 che dal trailer di lancio con la ragazza afro americana appunto che era a caccia all'interno di questa foresta innevata con quell'alce zombie eccetera eccetera ecco che oltre quel trailer non c'era nulla vi aspetto e la mia speranza è che qualcosa di undead labs si materializzi e si riesca a vedere qualcosa perché insomma sono passati ormai una fracca di anni fateci vedere qualcosina speranza ma abbastanza concreta per quanto mi riguarda potrebbe essere inerente double fine il team capitanato da team shaffer che è al lavoro su nuove proprietà intellettuali quindi niente psycho notes 3 niente banjo kazoo niente robe simili almeno non da parte di double fine ecco che appunto potrebbe mostrare qualcosina perché in una dichiarazione di diversi mesi fa team shaffer disse che da quel punto cioè da quel giorno fino a luglio 2025 giugno 2025 in occasione del 25esimo anniversario di double fine sarebbero arrivate robe quindi mi aspetto che arrivi roba ultimo ma è una speranza veramente molto recondita nel mio cuore perché temo francamente temo temo devo essere sincero perfect dark ovvero il titolo sviluppato da the initiative crystal dynamics anche questo così come state of decay ha avuto il suo teaser trailer lanciato così a mo di sasso nello stagno e poi boh sparito completamente dai radar ecco se non dovesse fare capolino all'interno di questo showcase di xbox la paura convincerebbe a concretizzarsi a livelli di guardia di allerta ecco perché insomma latita da tanti anni tutta la burrasca che c'è stata all'interno dei initiative tra gente che se n'è andata la coproduzione il co sviluppo di crystal dynamics crystal dynamics crystal dynamics che è di embracer che in questo momento non è che se la passa benissimo ha licenziato un massacro di persone eccetera momento difficile quindi se si presenta bene se non si presenta è paura in ultimo nelle speranze proprio più recondite in assoluto sempre per quanto riguarda i first party chiaramente parliamo mia speranza personale ma credo di non vederla mai questa roba più titoli con mouse e tastiera implementati io questa cosa continuo a ripeterla continuano a uscire dei titoli che hanno l'uscita su pc game pass o ci sono già su pc microsoft dovrebbe prendere una posizione in questo momento e dire lo volete giocare su xbox vi facciamo il porting con mouse e tastiera non potrete giocarlo con il controller giocatelo con mouse e tastiera non so se è una roba fattibile anche a livello concettuale perché non sono un programmatore se si potesse fare esempio un world of warcraft su console non lo vuoi portare un frost punk 2 che uscirà solo su pc game pass non vuoi annunciarlo anche su console ma se hai mouse e tastiera collegato sempre che si possa fare ripeto da ignorante la butto lì fosse una soluzione praticabile why not visto che si è perso un po nei meandri del tempo e altra speranza remota che so tantissimi di voi stanno aspettando ma io personalmente non mi aspetto di vederlo in questo showcase fable sì perché tantissimi stanno aspettando fable già ho sentito tanti che dicono se non ci sarà fable a questo showcase sarà una disfatta l'hanno presentato l'anno scorso non so a che stadio di sviluppo siano chiaramente perché non lavoro in playground games ma mi aspetto un fine 2025 inizio 2026 una roba così ecco se uscisse anche solo a fine 2025 sarebbe carne al fuoco per il developer direct del 2025 che si tiene a gennaio solitamente quindi perché presentarlo adesso in uno stato così più o meno con un teaser trailer che dovrebbe far vedere tanto per convincere e invece altri sei mesi di sviluppo e poi uscire con dei contenuti dedicati al developer direct secondo me avrebbe più senso potrebbe farsi vedere fable potrebbe ci credo neanche un po però uscisse e venga infine piccolissima parentesi conclusiva per le terze parti collaborazioni titoli di diet xbox sì mi aspetto silksong ecco possiamo dirlo che adesso silksong adesso è più l'attesa che il titolo in sé perché davvero c'è gente che sta implodendo celebralmente perché vuole silksong capisco che sia un titolo attesissimo però qualcosa ormai si dovrà far vedere di sto benedetto titolo perché oltre ai due tre trailerini che sono stati rilasciati nel corso del tempo tutto è rimasto nell'ombra credo che ci siano tutte le carte in regola per mostrarsi è vero che lo dobbiamo aspettare all'interno di questo 2024 dopo gli innumerevoli rinvii dei mesi passati ormai anche questo siamo agli sgoccioli visto che è sempre stato pubblicizzato ecco mostrato agli showcase di xbox perché no ecco potrebbe essere una cosa molto interessante anche per coloro che seguono la scena dei titoli indipendenti degli indie Hollow Knight è un indie a tutti gli effetti perché no magari nella parte centrale dove fanno i reveal del game pass dei prossimi titoli magari in arrivo a tal proposito replaced altro titolo che stiamo aspettando dalla notte dei tempi continua a essere rinviato adesso dovrebbe arrivare nella seconda metà del 2024 se non lo annunciano allo showcase significa che è rinviato al 2025 praticamente sicuro quindi aspettiamo 33 immortals è uscita la closed beta un annuncino con una data di release dopo la closed beta che finirà la settimana prima dell'arrivo dello showcase potrebbe essere tipo grazie per tutto il feedback che ci avete dato tutte cose esce fra x tempo un mese due mesi due settimane non lo so non ne ho la minima idea potrebbe essere molto figo anche questo visto che è un day one sul game pass così come Hollow Knight Silksong e infine proprio ciliegina sulla torta se devo buttarla lì non che io sia particolarmente interessato a questa tipologia di prodotti ve l'ho già detto tante volte Square Enix che grazie proprio al nuovo sodalizio fatto con xbox sul palco dove c'era Yoshi P il CEO di Square Enix a baci a bracci strette di mano le ultime dichiarazioni di Square Enix che dicono appunto che i loro titoli usciranno al day one multipiattaforma addio all'esclusività con Sony addio all'esclusività con Nintendo eccetera eccetera ma uscirà tutto praticamente ovunque potrebbe essere una buona cosa anche mostrare qualcosina di Square Enix Visions of Mana si era già mostrato al developer direct di gennaio potrebbero dire arrivano i Final Fantasy che ne so potrebbe essere io non so se effettivamente Final Fantasy 7 remake abbia davvero la famosa clausola che è un'esclusiva temporale PlayStation temporale fino al 2400 non ne ho la minima idea Final Fantasy 16 potrebbe arrivare potrebbe essere annunciato proprio sul palco di xbox proprio l'ennesima conferma che le pacche sulle spalle sono tornate anche per la compagnia di Redmond da parte di Square non so non ne ho la minima idea questa è un po' la carrellata dei titoli che mi aspetto dalle varie compagnie e le cosine carine che mi aspetto di vedere allo showcase l'evento solitamente dura un paio d'ore fra l'evento principale più il direct se consideriamo l'evento principale di un'ora un'ora e mezza faccio per dire visto che poi il direct di Call of Duty potrebbe durare una mezz'oretta ecco diciamo una roba così mi aspetto che ci sia la solita infornata di titoli che più o meno si attesta sui 30 titoli circa storicamente ha mostrato questa quantità di prodotti mi aspetto che adesso voi però nei commenti oltre ai titoli che sappiamo usciranno nel 2024 quindi Flight Simulator, Avowed, Indiana Jones e l'Antico Cerchio Towerborn, Ara History Untold eccetera tutto quello che è confermato per il 2024 a parte questo mi diciate voi 5 titoli che vi aspettate all'interno dello showcase quali attendete maggiormente quali sono le vostre speranze libero sfogo alla vostra fantasia alle vostre richieste e poi ovviamente settimana prossima raccoglierò tutti i vostri dati video dedicato metterò tutto nei miei file excel che mi piacciono tanto per ordinare tutte le vostre risposte e poi ci faremo una riflessione sopra in attesa dello showcase del 9 giugno grazie per essere arrivati alla fine del video come sempre iscrizione e campanellina se non siete iscritti per non perdervi nessuno dei contenuti dell'ecosistema di xbox un bel like per supportarmi e detto questo non mi resta altro che augurarvi buon divertimento alla prossima